Benvenuti al video dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Ciao a tutti. Siamo lieti di darvi il benvenuto al nostro canale per un nuovo appuntamento con l'astrologia. Oggi, il famoso astrologo Paolo Fox sarà qui con noi per condividere le previsioni astrologiche personalizzate per ciascun segno zodiacale. Preparatevi a scoprire cosa riserva il destino per voi e a ricevere preziosi consigli su come affrontare al meglio le situazioni che potreste incontrare. Quindi, prendetevi qualche istante per rilassarvi, chiudete gli occhi e lasciate che la saggezza delle stelle vi guidi. Senza ulteriori indugi, iniziamo questo viaggio nel meraviglioso mondo dell'astrologia con Paolo Fox. Ciao ariete. In questo nuovo giorno vivrete un magico momento d'amore insieme al vostro partner ed eliminerete tutti i cattivi pensieri che si sono accumulati negli ultimi giorni. In genere le relazioni di coppia sono caratterizzate da sentimenti intensi, realmente raggiungibili e vissuti a pieno ritmo. Preparatevi a riscoprire la bellezza e la complessità dell'amore. I single vivranno giornate speciali nella sfera affettiva, ma ci saranno anche momenti in cui sarà necessaria la pazienza. Nuovi incontri possono apparire all'improvviso e potrete trascorrere una serata brillante e spensierata. Siate pronti a rischiare, a seguire il vostro istinto e a cogliere le opportunità. Ricordate di puntare in alto nel vostro lavoro e nelle vostre imprese. Anche se fallirete, sarete orgogliosi della vostra lotta. La fortuna però è altalenante e non è consigliabile rischiare e investire. La vostra perseveranza vi permetterà di superare tutto. I single vivranno giornate speciali nella sfera affettiva, ma ci saranno anche momenti in cui sarà necessaria la pazienza. Nuovi incontri possono apparire all'improvviso e potrete trascorrere una serata brillante e spensierata. Ci saranno alcuni piccoli ostacoli sul fronte finanziario, ma siete abbastanza intelligenti e flessibili da evitarli. Ciao Toro Siete in un periodo in cui la situazione economica non è molto brillante, ma sapete come affrontarla. La vostra vita sentimentale andrà meglio. Sul lavoro state affrontando difficoltà importanti. Avete una grande energia, fondamentale in questo periodo dell'anno. Prendetevi cura della vostra salute. Giornata difficile in molti settori. Vi rendete conto che ci sono situazioni che dovete risolvere con il vostro partner, ma per qualche motivo continuate a rimandare. Tuttavia, le stelle vi consigliano di non aspettare oltre. Vi rendete conto che ci sono situazioni che dovete risolvere con il vostro partner, ma per qualche motivo continuate a rimandare. Tuttavia, le stelle vi consigliano di non aspettare oltre. Rimandare potrebbe farsi che i problemi si accumulino e diventino più difficili da affrontare Questa è una grande opportunità per il coraggio Dovrebbero affrontare direttamente la situazione e cercare di porvi rimedio Per i single è importante imparare dal passato Se ci sono situazioni ricorrenti in casa o in altri ambiti della vostra vita, cercate di individuare le vostre responsabilità e affrontatele in modo costruttivo È importante essere sicuri di sé al lavoro Credete nel vostro lavoro e mostrate passione e otterrete rispetto e fiducia Ciao gemelli L'oroscopo del 4 agosto prevede una giornata piuttosto positiva, anche se all'insegna della solita routine È un buon momento per migliorare la relazione di coppia L'energia di Venere vi incoraggerà ad essere onesti sui vostri sentimenti e a non aver paura di mettervi in gioco e di spiegarli al vostro partner Inoltre, non abbiate paura di mostrare il vostro vero Gio, perché le persone più vicine a voi lo apprezzeranno e risponderanno con amore e comprensione Se siete single, questo è un periodo in cui vi sentirete più forti e pronti ad affrontare qualsiasi sfida Potreste finalmente ricevere buone notizie e le vostre precedenti paure potrebbero dissolversi Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà, ma siate sempre ispirati a fare del vostro meglio La vostra forza di volontà sul lavoro sarà forte e riuscirete a dimostrare a tutti il vostro talento I piani per il futuro saranno in pieno svolgimento, visualizzeranno nuove possibilità per lo sviluppo della carriera e guadagneranno popolarità Le comunicazioni saranno aperte Brilla in riunioni di lavoro, presentazioni e networking Questo sarà un buon momento per rafforzare la tua immagine professionale e proiettarti Vacci piano quando assumi servizi Vale la pena ricercare i prezzi e ampliare le opzioni Ciao Cancro Siete particolarmente fortunati Siete in una fase di crescita per quanto riguarda il lavoro e le cose miglioreranno ulteriormente nei prossimi giorni Le cose vanno bene dal punto di vista finanziario Avete bisogno di trovare pace dentro di voi per recuperare le energie La giornata di oggi sarà molto positiva per voi, perché riuscirete a ristabilire l'armonia che avete perso con il vostro partner Dopo settimane di scontri, sarete finalmente in grado di avere un dialogo chiaro, di mettere da parte le vostre differenze e di lavorare insieme per trovare una soluzione Gli inviti di amici verranno addebitati per le risposte rapide Potrai decidere un viaggio, espandere le connessioni internazionali o partecipare a un evento online e brillare pubblicamente Lo scenario sarà positivo anche per la negoziazione di atti e contratti Metti la testa a posto e la vita in ordine Gli amici sosterranno i tuoi progetti Approfondisci le relazioni e circondati di persone sagge Ciao Leone Questo venerdì vi darà una visione divertente e spensierata Vi sentirete leggeri come una piuma e tutto sembrerà scorrere senza intoppi La compatibilità con la persona amata raggiungerà livelli incredibili e la vostra relazione sarà in dolce e vibrante armonia Se siete single, l'oroscopo prevede che incontrerete qualcuno che ammirate particolarmente e riceverete complimenti che vi faranno piacere Venere sarà vostra alleata nei rapporti interpersonali e sarà un vero jolly nell'organizzazione di eventi, incontri e viaggi con gli amici Si vivranno momenti indimenticabili Sul fronte del lavoro, chi è in cerca di occupazione riceverà notizie attese da tempo e potrà guardare al futuro con maggiore fiducia I piani di cambiamento guadagneranno slancio Investi in una migliore qualità della vita e nel tuo futuro Puoi dare una spinta alla tua carriera con una nuova impresa o ricevere una proposta ben pagata e imperdibile e aumentare il tuo prestigio Inizia un nuovo ciclo di vita ed espandi i tuoi orizzonti La bellezza e la cura della salute saranno una priorità, cambiare le abitudini e acquisire vitalità Ciao Vergine Oggi, 4 agosto, l'oroscopo prevede una buona giornata Va notato che per alcuni di questo segno zodiacale potrebbe essere addirittura un giorno di rinascita grazie all'effetto benefico di Giove e Urano Sentirete di avere il controllo della vostra vita e vi libererete delle tensioni che avete avuto con qualcun altro Il legame tra voi e il vostro partner si approfondirà sicuramente I single saranno attratti dall'idea di mettere alla prova il loro fascino in un ambiente nuovo Vi comporterete come un eroe, sarete impavidi e attirerete facilmente l'attenzione La vostra sicurezza e positività attireranno l'attenzione dei vostri cari Sul fronte del lavoro, l'energia del sole vi permetterà di comprendere meglio i problemi Sarete costretti a scavare in profondità per trovare soluzioni efficaci Il tuo lavoro sarà la tua roccia sicura e farà brillare il tuo talento nascosto per la leadership Tuttavia, potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo nelle tue finanze Nulla di serio, ma attenzione a non spendere troppo inutilmente In amore ci saranno alti e bassi È importante mantenere l'equilibrio interiore ed evitare di lasciare che le emotività prendano il sopravvento Ciao bilancia Le cose non vanno per il verso giusto La fortuna non è a vostro favore e questo scossone si ripercuoterà sulle vostre finanze Anche se ci sono difficoltà, alla fine tutto si risolverà Sul fronte degli affari, pensate bene prima di fare un passo avanti Potrebbero sorgere tensioni e incomprensioni sia in amore che sul lavoro Tuttavia, non scoraggiatevi In amore, siate sinceri sui vostri sentimenti e ascoltate quelli del vostro partner Con pazienza e comprensione, potrete superare gli ostacoli e rafforzare il vostro legame Sul lavoro possono verificarsi situazioni impreviste Oh, bilancia, la tua energia è incredibile in questo periodo Sarà un bel viaggio Comunque, non tutto va come desideri La fortuna ti sta voltando le spalle e nel campo delle finanze potrebbe esserci una piccola tempesta in arrivo Non preoccuparti troppo per l'amore, ci saranno alti e bassi ma alla fine andrà tutto bene Sulla carriera, beh, forse dovresti considerare di fare qualche passo indietro prima di avanzare Ciao scorpione Oggi le stelle vi sorridono Approfittate di questa energia positiva sia sul lavoro che nelle relazioni personali Vi sarà facile esprimere i vostri sentimenti e ascoltare gli altri Siate aperti e onesti con il vostro partner e apprezzate il dolce affetto che vi circonda Al lavoro, la vostra creatività e l'eccellente senso del dovere vi aiuteranno a realizzare nuove strategie e idee Prenderete decisioni sagge e ponderate, e sfrutterete le opportunità per distinguervi e farvi notare Ehi scorpione, sembra che la tua compatibilità con gli altri sia a un livello piuttosto alto Non è una sorpresa per te, vero? Ma attento alle tue finanze, potrebbe essere il momento di rivedere quel budget In termini di salute e carriera, le cose sono abbastanza neutre ma non ti preoccupare troppo Il tuo lato spirituale brilla come sempre mentre la tua energia ha bisogno di una ricarica Ricorda, tutto ciò che scende deve risalire Ciao Sagittario L'oroscopo del 4 agosto prevede un venerdì all'insegna della solita calma Può sembrare strano ma sappiate che una giornata ordinaria, oltre alla solita mondanità, può essere un'occasione preziosa per riflettere sulla vita e apprezzare le cose semplici e pure che vi circondano Spesso siamo così concentrati sulla ricerca di sensazioni forti e straordinarie che dimentichiamo di apprezzare la bellezza delle piccole cose La vostra mente può sentirsi stabile e in armonia con il vostro partner Questa calma vi darà la pace interiore di cui avete bisogno per affrontare la vita quotidiana con gioia e fiducia Affermate l'importanza dei piccoli gesti, dedicate tempo a chi se lo merita e cercate momenti di intimità e complicità Ricordate il detto l'amore è come una pianta, va curato ogni giorno Anche nel campo del lavoro, la normalità può essere una benedizione Ciao Capricorno Questo venerdì sarà una giornata fiacca Potreste non sentirvi motivati a partecipare alle attività quotidiane Quando vi sentite così stanchi, è importante ricordare che ogni aspetto della vostra vita, positivo o negativo, fa parte del vostro viaggio Dal punto di vista emotivo, potreste sentirvi distanti dal vostro partner o dagli amici più cari Non abbiate paura di esprimere come vi sentite e chiedete sostegno se ne avete bisogno Potreste avere difficoltà o ristagni sul lavoro Non scoraggiatevi, ma concentratevi su come migliorare e superare gli ostacoli Continuate a concentrarvi sulle vostre attività, perché il successo arriva per chi persevera Prendetevi del tempo per riflettere sulla giornata Il tuo lato avventuroso è in piena fioritura Non temere le sfide, la tua adattabilità ti aiuterà a navigare attraverso di esse In amore potrebbero esserci delle scosse ma niente che non puoi gestire Le finanze sembrano un po' oltravallanti, quindi presta attenzione alle tue spese Ricorda sempre di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero Ciao Acquario Acquario, questo è un periodo non molto positivo per voi Dovreste consolidare ciò che avete accumulato e prepararvi alle sfide future, che non saranno semplici In amore, dovreste cercare la stabilità e piuttosto che continuare a fuggire dalle discussioni L'amore è come una pianta, ha bisogno di cure quotidiane Sul lavoro potreste litigare con un collega o trovare difficoltà su un progetto È il momento ideale per concentrarsi di più e cercare di imparare dai propri errori Ehi Acquario, sembra che le cose stiano andando piuttosto bene in generale La tua compatibilità con gli altri è alta e la fortuna ti sorride, ma fai attenzione alle tue finanze Non tutto quello che luccica è oro La tua carriera sta procedendo a gonfie vele, anche se potresti sentirti un po' meno energico del solito Rimani concentrato sulla salute e sull'equilibrio interiore Ciao pesci Il vostro segno zodiacale prevede una giornata fortunata per venerdì 4 agosto Le stelle saranno dalla vostra parte, regalandovi un'aura favorevole e fortunata in ogni campo In amore, vivrete momenti magici con il vostro partner I vostri rapporti saranno intensi e dolci Sfruttate questa buona energia per rafforzare il vostro legame ed esprimere i vostri sentimenti più profondi Al lavoro, avrete la capacità di risolvere i problemi con facilità Le vostre idee brillanti saranno riconosciute e vi porteranno al successo professionale Sfruttate questa fortuna per realizzare nuovi progetti Prestate attenzione ai segnali dell'universo e seguite il vostro intuito in questo giorno fortunato Chi segue il proprio cuore troverà la strada giusta Ehi pesci, ascolta La tua compatibilità e abilità di comunicazione stanno brillando come mai prima d'ora Tuttavia, la tua fortuna potrebbe non essere al suo apice proprio ora Ma ei, nessuno ha detto che sarebbe stato sempre facile, giusto? L'amore sembra promettente ma non lasciare che ti distraga troppo dal lavoro Le tue finanze sono solide per il momento quindi niente preoccupazioni da quel lato Ricorda solo di mantenere quell'energia alta